Musica Calva avrà un compito duro, riedificare Roma e ridarle la sua giustizia. La gloria che fu di Roma, temo non sarà più raggiunta, Marco. Babilonia, Egitto, Grecia, Roma. Che seguirà? Un mondo più duraturo, spero. O una fede più duratura. L'uno non è possibile senza l'altro. Cosa c'è in tribuno? Fu proprio da questo punto che Pietro e Dio tornammo a Roma. Fu qui che il Signore gli parlò. È un luogo benedetto. Fu qui che il Signore gli parlò. Fu qui che il Signore gli parlò. Fu qui che il Signore gli parlò. Io sono la via. La verità. La vita. No, no, no. No, no, no.